Continuiamo a parlare di comuni e di Equitalia con l'intervista al sindaco di Morazzone, Matteo Bianchi, che abbiamo intervistato a margine del festival dell'Insubria a Varese nel fine settimana scorsa. Due giorni di convegno dell'associazione Terra Insubre dedicato alla macro-regione. In che modo si può declinare la macro-regione rispetto ai comuni? Sicuramente i comuni hanno interesse che questa macro-regione venga sviluppata, venga portata avanti in maniera da avere un interlocutore sia ricredibile che non sia lo Stato centrale per risolvere quelli che sono i problemi spicci concreti dell'amministrazione comunale che poi sono i problemi concreti della gente e dei cittadini. È un tema assolutamente importante anche in un'ottica europeista finalizzata anche a creare dibattito per quello che sarà la campagna elettorale delle elezioni europee del 2014 che sarà sicuramente carica di valenza politica come tornata elettorale in quanto tutti quanti sappiamo che l'Europa ha e avrà un ruolo importante e strategico per il futuro di tutti quanti noi e quindi è bene che i partiti, i movimenti dicano esattamente che tipo di Europa vogliono. Noi, Lega, siamo per l'Europa delle regioni e dei popoli. Nel frattempo i comuni però si trovano a che fare con i problemi quotidiani a partire dalle imposte. Poi c'è la questione Equitalia. Lei, anche sindaco di Morazzone, ricordiamo, è stato uno dei primi a togliere Equitalia. Però ci si chiede qual è l'alternativa di Equitalia? Innanzitutto non è un dramma, anzi credo che sia assolutamente un valore aggiunto per gli enti locali, per i cittadini, avere un interlocutore per la rispossione dei tributi diversi da Equitalia e ogni comune si può organizzare autonomamente in funzione di quello che è il suo proprio contesto e le proprie esigenze con diverse soluzioni. Una è la soluzione che abbiamo adottato noi che è quella della riscossione tramite gli uffici comunali, l'altra è una riscossione tramite società private, ovviamente diverse da Equitalia, che fanno questo tipo di servizio per conto dei comuni. Oppure una soluzione mista. Certo è che essendo eventualmente affidandosi ad una società private di questo tipo, questa società dei fornitori, dei comuni, i comuni vanno a individuare questo tipo di società in funzione della propria scelta politica che logica vuole essere una scelta politica che ponga attenzione nei confronti di quelle che sono purtroppo le problematiche che i contribuenti hanno in questo momento di crisi economica.